buongiorno amici avventurieri e benvenuti in una nuova puntata di questo podcast il titolo di cui vogliamo parlare oggi a suo tempo mi colpì molto per la sua distribuzione e la sua conformazione così molto particolare parlando di un titolo 2010 pubblicato da Warner Bros Entertainment che che io sappia ha distribuito solo questo titolo ed è Giulia Innocent Eyes allora il titolo è di genere thriller ispirato a un personaggio creato da Bruno Bonelli e cioè Giulia la criminologa che magari qualcuno di voi potrebbe conoscere si tratta di una serie composta da tre episodi che si basa su sulle avventure di Giulia appunto una docente di criminologia l'università che viene contattata per risolvere un caso di omicidio piano piano nel corso della serie scopriremo anche alcuni segreti inquietanti riguardanti il passato stesso della donna la grafica è molto curata per quanto si possa per quanto potesse essere curata in titolo del 2010 comunque stiamo sempre parlando di sei quasi sette anni fa quindi la grafica era abbastanza era abbastanza ben realizzata non era propriamente una schifezza diciamo anzi era realizzata molto molto bene sicuramente inferiore con standard di inferiori a quelli odierni ma comunque indiscutibilmente un bel titolo da questo punto di vista gli enigmi avevano un approccio molto particolare per essere risolti e non erano di tipo logico piuttosto si trattava di interazioni con gli oggetti e con l'inventario e addirittura con alcune icone particolari di questo che venivano salvate che venivano salvate sotto forma di idee e si poteva utilizzarle per condurre magari una conversazione o un interrogatorio un approccio particolare che verrà utilizzato qualche anno dopo per titoli come vampire story di stampo decisamente diverso perché di genere completamente diverso l'interfaccia era quella classica di un titolo punto e clicca in terza persona anche se in alcuni punti poteva sembrare più simile ad un gioco esometrico come alcuni simulatori di vita tipo The Sims o simili per via di alcuni movimenti impostati con una specie di telecamera a momenti sembra quasi ci si potesse che si potessero girare le ambientazioni di gioco diciamo che ci si potesse girare come se ci fosse una telecamera a spalle del personaggio che la seguiva che la seguiva e l'ambientazione girava veniva ruotata come in alcuni dei giochi accennati più sopra e questo poteva avere un'influenza abbastanza anche negativa sul gioco perché poteva confondere un po' il giocatore il sonoro era rappresentato da titoli da dialoghi che per una volta erano doppiati in italiano forse perché come detto spesso a quei tempi il gioco era meno costoso rispetto a realizzare un videogioco era meno costoso rispetto agli standard odierni concludendo si tratta sicuramente di un buon titolo da tenere ad occhio per eventuali offerte e da eventuali offerte su negozi dell'usato e se possibile da recuperare anche se essendo passati sei quasi sette anni è abbastanza difficile da trovare ultimamente bene io ho concluso e vi do appuntamento alla prossima puntata ciao a tutti